Qualche giorno fa il mio amico Pasquale di Io Risparmio ha fatto un video dal titolo Le migliori aziende italiane. Ovviamente il focus è su aziende e azioni da dividendo. Se non avete visto il video andatevelo a rivedere e oggi io reagisco a questo video perché chiaramente l'obiettivo sia mio che di Pasquale è quello di trovare azioni ad alto dividendo magari anche con un dividendo sostenibile e crescente nel tempo senza rinunciare al capital gain. L'obiettivo comune è quello del pensionamento anticipato, comunque di avere una rendita aggiuntiva a quello magari del lavoratore dipendente o autonomo, visto che Pasquale sta intraprendendo anche strade aggiuntive rispetto al lavoro autonomo. Ma la mia reazione, quella sarà? Sarà una reazione di rifiuto per le azioni scelte da Pasquale oppure sarà una reazione da wow che belle azioni Pasquale che si è andato a scegliere? Lo andiamo a scoprire insieme e seguitemi fino alla fine perché poi vi dirò anche quali di queste azioni sono nel mio portafoglio e anche una sesta azione che andrai ad aggiungere a quelle elencate da Pasquale. Ma mi raccomando prima sostenete il canale investire in Borsa Caccia di Dividendi con un like e con l'iscrizione se non l'avete ancora fatto e se non l'avete fatto anche l'iscrizione a Io Risparmio di Pasquale, mi raccomando. La prima azione che ha scelto Pasquale è assicurazioni generali. Penso che non abbia bisogno di grandissime presentazioni. La compagnia assicurativa più grande in Italia andiamo a vedere un pochino i dati. ha un rapporto prezzo utili di 10,92, un dividend yield superiore al 5,5% nel momento in cui ho fatto il video e un'ottima copertura del dividendo perché gli utili coprono ampiamente la distribuzione. inoltre c'è da dire che negli ultimi anni generali ha offerto entrate sempre in discreta crescita possiamo dire e anche stesse cose per gli utili. Piccola diminuzione, piccola diminuzione degli utili nel 2020 chiaramente causa Covid, però nonostante tutto è riuscita ad offrire dividendi sempre molto molto interessanti. Nel 2020 non era arrivato il dividendo ma nel 2021 ha quasi raddoppiato il dividendo distribuito con una ulteriore distribuzione. Pertanto pollice alto per generali assicurazioni per quanto mi riguarda. Seconda azione A2A. Tanti di voi spesso chiedono A2A potrebbe essere il momento di comprarla. Andiamo a vedere alcune di queste valutazioni. Ricordo poi che sono valutazioni assolutamente mie più che altro basate sulla qualità dell'azienda e del dividendo distribuito senza fare invece un'analisi attenta sul prezzo di entrata più corretto. Poi quello ognuno dovrà eventualmente andarselo a calcolare da solo. A2A ha un rapporto prezzo utile molto molto interessante, soltanto di 8,77. Ricordo che più basso è questo valore più conveniente potrebbe essere l'azione. Un dividendo superore al 5% e attualmente possiamo vedere come viaggi con la quotazione a 1,53 in un range diciamo abbastanza basso rispetto ai prezzi delle ultime 52 settimane. Anche in questo caso il dividendo è molto ben coperto. Possiamo vedere come gli utili dal 2017 al 2020 siano stati sempre in aumento con anche in questo caso un piccolo calo nel 2020 periodo anno diciamo colpito dalla crisi Covid. Ma comunque possiamo dire che A2A ha continuato a macinare utili su utili. Chiaramente una utility sarà sicuramente indebitata, quindi potrebbe essere un pochino più sensibile al rialzo dei tassi ma vediamo come dal 2012 fino ai giorni d'oggi abbia aumentato il dividendo in maniera molto molto positiva, molto molto interessante. Quindi darei un bel pollice alto anche per A2A che nel caso scendesse magari sotto gli 1,40 potrebbe essere un incremento meglio interessante anche per il mio portafoglio. Tornando ai titoli scelti da Pasquale, la terza azione è Esprinet, magari in tanti non la conoscono, è un'azienda italiana a piccola capitalizzazione, neanche mezzo miliardo di euro di capitalizzazione a rapporto prezzo utile, anche in questo caso molto interessante, 10,45 dividendo di quasi il 6%, anche in questo caso il dividendo è ben coperto dagli utili, dal EPS e anche in questo caso siamo davanti a un'azione che sta viaggiando nella forchetta più bassa del range delle ultime 52 settimane. Quindi andare a valutare eventualmente anche visto che il prezzo potrebbe essere interessante in questo momento. Con Esprinet vediamo come in realtà abbia avuto redditi netti, quindi utili, in costante aumento dal 2018 fino al 2021. La pandemia Covid non gli ha fatto proprio un baffo, stessa cosa per le entrate sempre in crescita. Quindi azione piccolina da andare sicuramente a valutare, ma direi che anche in questo caso Pasquale ha tirato fuori qualcosa di molto interessante. Fronte dividendi vediamo come dal 2012 fino ad oggi abbia offerto dividendi sempre in aumento o al massimo confermati rispetto all'anno precedente, con la sola eccezione del 2016, quando il dividendo di 0,15 non era poi stato confermato l'anno successivo, quando scese a 0,13 e mezzo. Una piccola discesa che però non ha intaccato la qualità del dividendo distribuito. La quarta azione è IREN, un'altra utility, sempre italiana, e vediamo come IREN abbia un rapporto prezzo utili anche in questo caso molto interessante. Bravo Pasquale! 9,19, un dividend yield del 4%, dividendo ampiamente coperto dall'utile per azione, e anche in questo caso IREN sta viaggiando abbastanza vicino ai minimi degli ultimi 52 settimane. Ci vorrebbe un calo del 10-15% e IREN sarebbe veramente interessantissima, direi. fronte, utili, possiamo vedere come gli utili di IREN non abbiano registrato particolari aumenti negli ultimi 4 anni, bisognerebbe vedere il bilancio 2021 come è andato, stessa cosa per le entrate, però dividendo sicuramente ottimamente coperto, IREN poi è molto attiva anche nel settore delle energie rinnovabili, insomma anche dell'economia circolare, sicuramente un titolo interessante che ha offerto dividendi in aumento dal 2012 in avanti, con un rendimento percentuale sempre molto elevato sopra al 3%. Andando a vedere l'ultima azione proposta da Pasquale, poi andremo a vedere quali di queste sono nel mio portafoglio, è anche una sesta azione, è Shuker Frames, devo dire che non la conoscevo benissimo, l'avevo vista perché spesso mi compare tra le migliori e le peggiori, discretamente volatile, si occupa di design e produzione di finestre in legno e alluminio e strutture in vetro, è un'azienda a piccolissima capitalizzazione, soltanto 169 milioni di euro di capitalizzazione, rapporto prozzi utili di 18, dividendo del 4,67%, anche in questo caso coperto dagli utili, anche se non in maniera eccezionale come piace a me. Possiamo vedere inoltre come abbia utili in forte aumento dal 2018 in avanti, così come il fatturato inoltre mostra margini molto molto elevati, con un margine lordo del 33% e un margine di utili netto del 14,53%, quindi un'azienda secondo me è da andare comunque a studiare attentamente, che sta viaggiando in un range a metà tra i minimi e i massimi degli ultimi 52 settimane, non la conosco benissimo, quindi in questo caso sospendo un attimo il giudizio, anche perché non c'è un grandissimo storico sul dividendo, visto che ha distribuito unicamente nel maggio 2021. La sesta azione che propongo io è poste italiane, non se ne parla tantissimo, l'ho voluta proporre proprio per questo motivo, pur avendola in carico nel mio portafoglio, e ve lo dico già adesso, a un prezzo di 6,5% non disdegnerei un incremento nel qual caso poste scendesse attorno agli 8 euro per azione. Con la volatilità che c'è stata nelle scorse settimane, poteva anche arrivarci. Nell'ultime 52 settimane ha viaggiato in un range tra gli 8,36 e i 12,73 euro, adesso siamo circa a 10 euro per azione, molto buono, molto buona, un'azienda tradizionale italiana, classicamente noi la leghiamo solo alla consegna di pacchi o di lettere, in realtà fa tantissimo altro, assicurazioni, gestione degli investimenti, eccetera, dividendo del 5% abbondante, ben coperto dagli utili. Possiamo vedere inoltre come, escluso il 2020, abbiamo comunque offerto sempre utili, ragguardevoli in buon aumento, stessa cosa per le entrate, e possiamo vedere come anche il dividendo in realtà sia molto molto interessante. Adesso non ce l'ho sott'occhio, peccato, però andiamo a vedere le azioni di cui ho parlato se sono in presente nel mio portafoglio. Allora, Generali è presente nel mio portafoglio con un peso del 2,68%, una delle prime aziende per peso percentuale all'interno del mio portafoglio. Ho IREN con un peso dell'1,83%, ho A2A con un peso dello 0,20%, proprio per questo mi piacerebbe incrementare la sua quota. Quindi tre di queste azioni presentate da Pasquale sono presenti nel mio portafoglio. Mancano Esprinet, manca Shuker, che non ho in portafoglio, piccole aziende che però mi piacerebbe andare a studiare bene, magari per vedere se meritano di entrare nel mio portafoglio. Per quanto riguarda poste italiane, sì, è presente con un 0,52%, come ho detto, mi piacerebbe valutare un incremento, se si presentasse però un'occasione interessante. Ditemi pure la vostra su queste 5 più 1 azioni che ho presentato. Secondo voi sono interessanti, secondo voi Pasquale ha fatto un'ottima scelta, secondo voi la sesta azione che ho inserito io è buona? Ditemelo e condividete le vostre idee. Un saluto a tutti da Lorenzo, a presto e ciao! Grazie a tutti!